Allora, questo altro telefono c'è anche tuo, possiamo usarlo? Se mi da una mano, eccolo qua. Questo si blocca solo? Bene. Questo è l'Instagram? Posso aprire l'Instagram? Apre. Apre. Ok. Per quelli di voi che non usate l'Instagram, non sapete che cosa è. L'Instagram è un app, è un social in cui noi mettiamo le nostre fotografie e convidiamo queste fotografie con i nostri amici. Voglio che tu confermi che le fotografie stanno cambiando. Posso confermare? Bene. Io voglio che tu ricordi una sola fotografia. Prova di prendere quanti dettagli possi. Il colore, che cosa succede, che si vede. Fatto? Posso anche confermare che adesso abbiamo andato avanti e siamo su un'altra fotografia? Posso confermare che il cellulare è chiuso? Alessio, non dire bugia per me. Posso confermare che hai visto tante fotografie, però di queste c'è una che è nella tua mente. Giusto? Voglio, Alessio, che immagina il momento in che questa fotografia è stata fatta. Posso fare questo con la tua immaginazione? Bene. Risponde solo sì o no? Niente di più. Quando tu immagina e prendi questa fotografia, ti arriva qualcun ricordo a te? Sì, perché sentivo questo? Non è possibile che io so questo ricordo, Giusto? Non è un selfie. No, meno male. Perché sento come se, quando penso in questa fotografia, pensa in viaggiare? Può essere? È un posto? Sì? Sei andata a questo posto? Infatti sì. Non è un posto italiano. Non è un posto italiano. Non è un posto italiano. Alessio, da oggi non dire nessuna bugia per me, neanche sì e neanche no. Se la cosa va male per te, cerrariano con me alla fine, per non dire bugia per me. Alessia, tu sei andata a questo posto prima di aver andato a questo posto. Ogni volta che tu vedevi in tv, qualcuna immagine è relazionata a questo posto. Tu volevi andare lì per vacanza, ti immaginavi lì, magari all'inverno. Alla fine tu, piano piano, ti sei impagato questo viaggio, è stata una vacanza e è alzato in America. Alzato in America. Però possiamo andare ancora, perché l'America è troppo grande. Sento che in qualcuna forma tu relaziona questa città tanto a tv. Non solo perché si vede tanto in il film, però c'è una serie tv particolare tua. Che succede in questa città? Tu sei andato? E quella fotografia che hai scelto è un monumento a questo posto. Posso dire il nome del monumento? Il posto? A dove? A dove? A dove? A dove? A dove? A dove?